Buon pomeriggio con il TG6, dedichiamo l'apertura del nostro telegiornale al giorno del ricordo dei massacri delle foibe. Oggi un'unica cerimonia a cui hanno partecipato 14 comuni del Pescarese. Paolo Renzetti. L'amministrazione comunale di Pescara, la provincia, i comuni di Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Scafa, Moscufo, Nocciano, Picciano, Civitacuana, Santo Femia, Maiella, hanno celebrato a una sola voce il giorno del ricordo per onorare questa mattina congiuntamente la memoria degli italiani caduti sull'altra sponda dell'Adriatico e quelli costretti all'esilio durante e dopo la seconda guerra mondiale. E per dire no a revisionismi e negazionismi su una tragedia nazionale e umanitaria. Oggi questa manifestazione vuole intanto essere un segnale importante. Purtroppo il Covid ha dovuto interrompere un percorso che si era iniziato negli anni anche all'interno delle scuole, ma appena la situazione sarà di nuovo normale faremo in modo tutti i comuni e anche la provincia di veicolare il messaggio di pace e contrario a questi che sono accadimenti che non dovranno mai più ripetersi. Purtroppo si sente ancora di qualche soggetto che vuole negare e ritrattare e questo sicuramente non è un qualcosa di positivo. Quello che invece bisogna fare durante queste giornate è ricordare essere più uniti che mai affinché queste giornate siano da monito perché certe situazioni, certi episodi non accadano più. Solo 14 perché poi oltre ai loghi dei comuni presenti sulla locandina a questi comuni si sono aggiunti altri comuni quindi c'è stata un'adesione importante, segno di un significato importante che tutti i comuni e tutto il territorio pescarese ha voluto dare a questa giornata. In questa particolare giornata è intervenuto dall'Aquila anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio che ha ricordato quanto sia importante il ruolo della scuola. Ascoltiamolo. Come tutte le operazioni che riguardano la memoria, la memoria storica, ripercorrere le tappe, non solo quelle felici ma anche e soprattutto quelle dolorose del nostro popolo, è fondamentale il coinvolgimento delle scuole perché è il momento in cui si forma una coscienza, si forma una consapevolezza del proprio io, sia singolo che collettivo e quindi una comunità poi tramanda i propri valori attraverso questi momenti e questi passaggi quindi nel momento in cui c'è una legge nazionale che istituisce la giornata nazionale del ricordo per le vittime delle foib e per l'esodo degli italiani dal confine orientale il modo migliore che noi riteniamo di doverlo celebrare appunto è quello di coinvolgere le scuole e dargli la possibilità attraverso qualificati interventi di conoscere questo momento di approfondirne il significato e quindi poi di farlo diventare patrimonio dell'intera comunità. Cerimonia senza colore politico quella che si è svolta a Chieti, il largo martiri delle foibe ce la racconta Selenia Secondi. Dopo il trattato di Parigi tra il maggio e il giugno del 45 migliaia di italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia furono obbligati a lasciare le loro terre, altri furono uccisi dai partigiani di Tito gettati nelle foibe o deportati. Anche Chieti ricorda le vittime dell'eccidio dei militari e civili italiani che abitavano in Friuli Venezia Giulia, nel Quarnaro e nella Dalmazia che viene celebrato come giornata del ricordo il 10 febbraio. Secondo gli storici furono tra i 3 e i 5 mila i morti nei campi di concentramento jugoslavi. Al massacro seguì l'esodo Giuliano Dalmata, l'immigrazione dei cittadini dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia e dal Quarnaro. Sindaco, una cerimonia senza colore politico per ricordare le vittime delle foibe? Senza colori politici assolutamente ci mancherebbe le vittime della guerra come le vittime di qualunque altra catastrofe umana, non hanno colore politico e soprattutto devono essere ricordate affinché episodi atroci come questo che stiamo ricordando nel giorno del ricordo e come ricordiamo anche nel giorno della memoria per le vittime dell'olocausto debbano servire per le generazioni future affinché queste cose non accadano mai più. Dopo 20 anni dall'istituzione della giornata del ricordo per le vittime delle foibe la storia sopravvive all'ideologia e ammonisce alla pace. Durante la notte i militanti di federazione hanno appeso striscioni riguardo il massacro delle foibe in diverse città italiane. Uno di questi striscioni anche a Pescara sul liceo scientifico da Vinci e un professore del liceo però ha deciso di strapparlo spiegando il perché in un video. Il giorno del ricordo ci ricorda di un'Italia che deve ancora fare i conti col proprio passato. La ricorrenza del 10 febbraio per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata fu istituita il 30 marzo 2004 con una legge cui i primi firmatari furono Roberto Menia e Ignazio Larussa ex militanti del Movimento Sociale Italiano entrambi confluiti in Fratelli d'Italia. A Pescara, sul muro del liceo scientifico da Vinci, questa notte è comparso uno striscione a firma dell'associazione di destra Audere Semper, riconducibile a federazione. Lo striscione non è piaciuto a un professore di storia e filosofia di quel liceo che lo ha strappato raccontando in un video postato sui social i motivi del suo gesto. Si tratta di propaganda parafascista, ha detto il docente. Qui all'ingresso del liceo stamani ho trovato un cartellone onore ai martiri delle foibe firmato a Audere Semper federazione. L'ho appena rimosso perché è propaganda parafascista e sulle foibe ho fatto un discorso storiografico serio, un dibattito pubblico vero a partire dai crimini commessi dal fascismo in Jugoslavia e la reazione criminale che fumo le foibe, la persecuzione delle foibe. Questa è propaganda fascista e quindi va rimossa. I massacri delle foibe al termine della seconda guerra mondiale rappresentano uno dei tanti terribili episodi di quegli anni in cui uomini e donne morivano a migliaia tutti i giorni sotto i bombardamenti, al fronte, nei lager o distenti. La Dalmazia era stata occupata dagli italiani nel 1918 dove imposero l'italianizzazione forzata e violenta della popolazione slava. Tra gli slavi, dopo anni di abusi, il sentimento anti-italiano era preponderante e portò all'ingiustificabile eccidio di migliaia di civili durante l'avanzata dell'esercito comunista jugoslavo. Il professore pescarese, che auspica un dibattito pubblico sull'argomento senza strumentalizzazioni politiche, nel video si rivolge direttamente ai militanti di Audere Semper. E a non richiamarsi a D'Annunzio, ma a D'Annunzio diceva avvolto scoperta, aveva una caratura intellettuale e culturale nettamente superiore a quei Mussolini, non era beceramente razzista e fascista appunto che Mussolini e poi soprattutto agite avvolto scoperto. Cambiamo argomento, il Comune di Pescara partecipa all'iniziativa nazionale contro il caro Bollette spegnendo questa sera le luci di monumenti e palazzi cittadini. Anche il Comune di Pescara partecipa all'iniziativa nazionale del lanci contro il caro Bollette, situazione quest'ultima che sta mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie che sono alle prese con aumenti vertiginosi degli importi delle fatture per la fornitura di luce e gas. L'amministrazione comunale per iniziativa del sindaco Carlo Masce e dell'assessore alle politiche energetiche Gianni Santilli ha infatti disposto di spegnere questa sera dalle 20 e per 30 minuti le luci che abitualmente illuminano e offrono alla vista la torre civica, il ponte Flaiano e l'Aurum. Questa vicenda del costo dell'energia non soltanto sta mettendo in difficoltà tutti i cittadini, tutte le imprese, questo aumento sconsiderato dei prezzi ma sta mettendo in difficoltà, in grandi difficoltà anche i comuni, anche gli enti locali perché l'energia in città si consuma con le luci nelle strade, con i palazzi, con le scuole, con gli impianti sportivi e quindi noi partecipiamo a questa protesta civile spegnendo le luci in alcuni luoghi e palazzi simbolo come l'Aurum, come il palazzo di città e come il ponte Flaiano ci saremo anche noi a questa manifestazione nazionale. Come amministrazioni locali cosa si può fare per andare incontro ai cittadini sotto questo punto di vista? Si può fare ben poco, purtroppo il costo dell'energia non dipende dai comuni anzi i comuni subiscono il costo dell'energia, anche noi avremo un aumento considerevole del costo della spesa legata all'energia che peserà sui bilanci del comune di Pescara come sui bilanci di tutti i comuni d'Italia. Io mi auguro che i prezzi tornino a scendere, tornino alla normalità, il momento è complicato, cerchiamo di difenderci ma le difficoltà ci sono. Il comune di Teramo ha acquistato e donato alla protezione civile quattro tende per emergenze di ogni tipo. Le strutture potranno essere montate in meno di un'ora e per il momento sono destinate a diventare una chiesa in località Cavuccio e a riparare gli ambulanti del mercato generale, Tania Bonici Castelli. Il comune di Teramo preventivamente si attrezza per future emergenze ambientali e acquista a favore della protezione civile quattro tende da utilizzare in caso di bisogno. Ogni struttura si monta in meno di un'ora e da oggi grazie ad una formazione sul campo anche i dipendenti comunali saranno in grado di farlo, tanto quanto i volontari. Una giornata importante, epocale per il vice sindaco Giovanni Cavallari. È una giornata unica vedere tutte le associazioni di volontariato, i nostri dipendenti comunali che fanno attività di informazione e formazione su come montare le tende, come poter sistemare le tende per un prossimo futuro. Speriamo di aver fatto questo acquisto in previsione non di futuri scenari emergenziali ma semplicemente per avere una disponibilità nel caso dovessero servire. È una giornata unica, irripetibile e secondo me veramente importante. Una protezione civile a livello comunale che non aveva attrezzature, non aveva fino ad oggi avuto contenuti. Siamo riusciti in un anno e mezzo o due anni a dare dei contenuti importanti e che oggi rappresentano il parrimonio della nostra città. Il messaggio che l'amministrazione comunale di Teramo intende lanciare con questa iniziativa è che non si debba ricorrere alla protezione civile solo in caso di calamità ma anche per esigenze quotidiane della popolazione. In questi giorni per esempio serve una chiesa nella frazione di Cavuccio e a Piazza Verdi i commercianti del mercato lavorano da mesi all'aperto sotto ogni intemperia. Le quattro tende saranno utilissime. L'acquisto di queste tende rappresenta un simbolo proprio di una nuova concezione di protezione civile. Sì, quella che abbiamo voluto dare all'attività amministrativa del nostro ente con il vice sindaco Giovanni Cavallari. C'è un sistema di protezione civile che deve rispondere in modo permanente alle esigenze della comunità, quindi non solo per le emergenze ma che supera la logica dell'intervento emergenziale ma strutturale di supporto a quelle che sono le esigenze quotidiane della comunità. È un po' anche il tempo che stiamo vivendo che ci fa vivere contestualmente in un momento in cui affrontiamo ancora un'emergenza, anzi due emergenze, sisma e la pandemia da Covid-19 ma contestualmente ci proietta verso una ripartenza. In questa fase è fondamentale avere una struttura che tenga, una struttura di protezione civile che dia risposte quotidiane e un grazie enorme oltre che ai nostri dipendenti e alle associazioni di volontariato che sono sempre pronte a dire sì. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Pescara criticano le scelte di bilancio della Giunta Masci. Secondo i pentastellati per recuperare 700 mila euro la Giunta ha tagliato fondi anche sul sociale. Consigliere Sola, si torna a parlare del bilancio del Comune di Pescara anche alla luce dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Ci sono delle novità? Sì, oggi torniamo a denunciare infatti la gestione economica del Comune di Pescara perché dopo i pesanti rilievi che erano stati avanzati nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti che aveva lanciato un grave allarme sugli equilibri economico-finanziali dell'ente, la prima contromisura proposta dall'amministrazione Masci è quella di un taglio verticale su tutte le voci di bilancio per andare intanto a recuperare i 714 mila euro che occorrono per rimettere in equilibrio economico intanto al bilancio stesso. È una scelta miope perché va a colpire indistintamente e danneggiare per centinaia di migliaia di euro anche settori strategici e delicati come l'ambiente, il sociale, la protezione civile, i servizi per l'infanzia e gli asili nido. Quindi diciamo che ancora una volta questa scelta dimostra come l'amministrazione Masci evidentemente non solo non è in grado di amministrare la cosa pubblica ma rischia di essere anche dannosa per la città perché va a toccare e danneggiare servizi essenziali per i cittadini. Potevano essere fatte altre scelte perché questa cifra innanzitutto va recuperata perché a Monte c'è già un errore da parte di questa amministrazione quindi oltre al danno la beffa e la contromisura poteva essere sicuramente andare a concentrare queste somme su servizi non essenziali come quelli che invece l'amministrazione Masci intende colpire e danneggiare per andare appunto a rimettere intanto in equilibrio economico il bilancio. Tra le iniziative sulle quali l'amministrazione comunale di Chieti punta per invitare i cittadini a salire in centro storico c'è il mercato dell'antiquariato. È stato emanato un bando che individuerà il nuovo gestore. Il mercato si terrà la quarta domenica del mese e si chiamerà l'antico in piazza. Per dare maggiore lustro al mercato dell'antiquariato al Chieti l'amministrazione comunale ha pensato di indire un bando specifico. Assolutamente ci accingiamo ad adottare una delibera in giunta con la quale andremo a dare indirizzo al settore per indizione di un avviso di un bando che ci consentirà di selezionare appunto il concessionario nel mercato dell'antiquariato di Corso Marruccino ma cercheremo veramente di stabilire dei criteri che siano impostati sulla qualità. Vogliamo mettere in piedi un evento che sappia caratterizzare la nostra città sulla strega delle buone prassi nazionali. Devo dire che abbiamo una grande attenzione attorno al nostro mercato dell'antiquariato però vogliamo fare in modo che questo diventi ancora più attrattivo, che sappia ancora di più portare persone in città e perché riteniamo che sia non soltanto un modo ulteriore per aumentare le presenze nella nostra città ma contestualmente anche dare un supporto a tutta la categoria commerciale perché ovviamente e poi il Corso Marruccino ha tante attività di commercio al dettaglio di commercio di vicinato che sicuramente ne trarrebbero beneficio. Si chiama Io Riparto, il live lab per promuovere la cultura del digitale presentato oggi alla Camera di Commercio di Pescara. Tornano i talkers di Io Riparto, associazione di promozione sociale nata a Pescara che ha l'obiettivo di promuovere la cultura e le competenze digitali in tutti i settori della vita pubblica privata. Non a caso il nome scelto quest'anno per l'evento è Orizzonti 2022 per guardare con fiducia ad un futuro che è già dietro la porta e chiede con urgenza di colmare quel gap digitale che ancora frena istituzioni, imprese e cittadini. In un momento in cui, forse era, parliamo di due anni fa, eravamo nel momento più brutto forse la storia contemporanea e il mondo stava cambiando in maniera totale per quanto riguarda la digitalizzazione e per quello che potesse servire. Di conseguenza la Camera di Commercio ha investito somme importanti sulla digitalizzazione e il punto digitale praticamente con la sua rete ha dato il suo contributo importante. Noi dobbiamo continuare a comunicare l'importanza perché noi vediamo una cosa assurda che praticamente le aziende non trovano personale preparato nel digitale e ci ritroviamo una quantità di giovani disoccupati da far paura. Il tema è importante perché è riguardato un tema fondamentale per la Camera di Commercio e per tutto il territorio, quella della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica, della trasformazione digitale. Sono leve fondamentali per la competitività di un territorio e la Camera di Commercio lo vede come un punto strategico del proprio programma. Io riparto e è senz'altro un'iniziativa molto interessante che noi abbiamo sposato da alcuni anni e che sosteniamo perché crediamo che sia un laboratorio di idee dinamico, vivace che consente proprio lo sviluppo di una cultura digitale di cui c'è estremo bisogno in Italia e in Abruzzo in particolare. Sì, intanto la ringrazio alla Camera di Commercio perché è da due anni che appoggia questo progetto ritenendolo uno dei mezzi con cui trasmettere la conoscenza e la trasformazione digitale in atto. C'è bisogno di un cambio di passo perché fino a qualche mese fa eravamo chiusi in casa con le mascherine. Adesso le mascherine ce le abbiamo ancora, ma ancora per poco speriamo. Siamo usciti di casa e c'è bisogno di capire e la nostra trasmissione cerca di aiutare in questo dove andare, cosa fare e come avvalerci della trasformazione digitale in atto. E ora la pagina dello sport a partire dal calcio di Serie C. Ospite della trasmissione Replay lunedì sera, il tecnico della Primavera del Pescara Pierluigi Iervese ha parlato dei giovani cresciuti nel vivaio biancazzurro che adesso sono sempre più protagonisti nella formazione di auteri. Ascoltiamolo. La caratteristica principale di Alessandro, penso che oramai l'ha dimostrato anche, è la personalità. Lui ha una personalità importante, un carattere forte, riesce ad essere lucido, mantenere quella lucidità che ti consente di fare delle scelte importanti e poi tecnicamente un portiere pulito e oltre alla tecnica che ha lui ha una qualità allucinante con i piedi che per il portiere in questo momento è una caratteristica che fa la differenza. Veroli anche lui l'anno scorso è stata una bella soddisfazione perché veniva da periodo di incertezza a livello di ruoli e decidemmo di portarlo dietro e fu una scelta azzeccata perché poi il ragazzo ha condiviso… Prima giocava al centrocampo? Era un centrocampista e per me gli disse se vuoi avere una prospettiva importante proviamo a fare qualche passo indietro perché lui ha qualità, ha visione di gioco, ha questa struttura fisica pure importante e devo dire che l'intelligenza del ragazzo ha portato a far sì che lui accettasse questa scelta e a Planuta è un giocatore diciamo quasi completo, secondo me ha bisogno un pochettino ancora di mettere quella forza che ti determina in una categoria importante come inizia ad essere la Serie C, però è un giocatore tecnico, un giocatore veloce nonostante la sua struttura fisica ed è un giocatore che vede la porta Senti, questo gioiellino delle Monarchi 2005 è così tanto forte? A me mi colpi subito, quest'estate all'inizio del campionato quando facevamo la preparazione non avevo il numero necessario per poter fare una partitina e feci salire dei ragazzi dalla 17 e vedi questo ragazzetto piccolo piccolo, a tutti ricorda Mauro Esposito? Sì, come caratteristiche sì e poi facevamo questa partitina e da lì lo portai nella primavera perché è veramente talentuoso, ha lo spunto, ha forza pure nelle gambe e devo dire che è un altro ragazzo eccezionale, è un ragazzo che ha la testa sulle spalle e seguito sicuramente bene anche dalla famiglia e dal suo procuratore e sono sicuro che questo esordio anche in prima squadra darà un grosso contributo per la sua crescita perché sicuramente è un'esperienza importante e noi siamo contenti della riuscita di questi ragazzi perché dietro c'è un lavoro importante da condividere come ho sempre detto con tutto il settore giovanile e naturalmente perché sono ragazzi bravi, sono ragazzi bravi che meritano di stare lì e sicuramente faranno, daranno sicuramente il loro contributo alla squadra perché sono ragazzi pronti per giocare. Naturalmente il mister crede in loro e questa è una cosa positiva e secondo me come avrà la possibilità cercherà di inserirli tutti. Il capitano del Teramo Andrea Arrigoni torna a parlare dopo il successo di Domenica contro la Lucchese che per il centrocampista ha dimostrato il carattere di una squadra a reduce da due stop consecutivi. Domenica Viterbo Arrigoni incontrerà il suo ex compagno di squadra Mungo con cui ha condiviso a lungo lo spogliatoio mentre per quanto riguarda il mercato il diavolo attende nella giornata odierna una risposta da parte di Jacoponi, difensore svincolato dal Parma a gennaio che oltre a quella bianco-rossa ha ricevuto anche altre offerte. Oggi fare il punto col suo procuratore e poi deciderà se accettare l'offerta del Teramo. È importantissima, era una vittoria che volevamo a tutti i costi e penso si sia visto per come siamo entrati in campo, quindi ci voleva, però non è che ha risolto tutti i nostri problemi, quindi ci voleva, era importante farla perché dava una risposta e comunque metteva un punto a quello che poi ci aspetta adesso, quindi adesso ci aspettano tante partite e a partire da quella di Domenica dobbiamo rimettere in campo quello che abbiamo messo Domenica con la Lucchese e andare avanti da questa partita. Ma non è un problema che mi portavo dietro, era un problema che si è presentato sabato in rifinitura, ma così all'improvviso ero bloccato, però poi dopo i fisioterapisti sabato sera e domenica mattina siamo riusciti a star meglio e poi dopo è andato, però è un problema che è stato improvviso così della rifinitura. È normale che sono cose che si sentono, quindi uno pur non volendo comunque qualche pensiero è innegabile che lo fa e probabilmente noi in un certo periodo magari anche inconsciamente, non che sia stato per quello che noi abbiamo avuto quel momento un po' così, però sicuramente nelle sconfitte è una cosa che magari si aggiungeva a tutto, però io sicuramente devo cercare di tenere il gruppo compatto, di andare tutti i dritti nella stessa direzione, però io penso che comunque il campo sia sempre la cosa più importante, nel senso che l'atteggiamento che uno deve mettere durante l'allenamento e durante la partita sia quello che poi spinge un po' tutti ad andare, a fare le cose per bene, quindi poi dopo ci sono delle situazioni magari in cui bisogna parlare un po' di più, io cerco di essere sempre a disposizione di tutti e di dare una mano un po' a tutti. La partita di domenica, la Viterbese è sicuramente una squadra che si è rinforzata tanto, che è in saluto perché avviene due vittorie di fila e quindi sarà una battaglia, tutti e due abbiamo l'obiettivo di tirarci fuori dalla situazione in cui siamo e quindi dobbiamo fare una partita tosta, una lotta contro di loro e vedremo di averla meglio. Per Mimmo ho un ex fresco che fino a due settimane fa era con noi e niente, però domenica gioca per la Viterbese e noi per il Teramo, quindi ci saluteremo a fine partita. Per il Castelnuovo ieri sconfitta nel recupero contro il Vasto Girardi, tocca a mister Guido di Fabio analizzare il momento in casa a Neroverde, il tecnico plaude la prestazione dei suoi ma recrimina per l'ennesima decisione arbitrale a sfavore. Vediamo il servizio di Stefano Recanati a seguire il commento dell'allenatore. Il Vasto Girardi espugna il comunale di Castelnuovo e si aggiudica il recupero della 17esima giornata di andata. L'1-2 finale sa di rivalza per il Vasto Girardi che qui aveva perso 3-0 in Coppa qualche mese fa. Dopo l'emergenza Covid a distanza di 47 giorni torna in campo il Castelnuovo Vomano. La formazione Neroverde ampiamente rimaneggiata dopo le sessioni di mercato invernale si schiera con un insolito 3-5-2 con la coppia offensiva formata dal duo Emili. Legidio previsto per domenica prossima gli esordi dei nuovi arrivati Bubalo e Colì. Nessuna novità sul fronte molisano con Prosperi che si affida agli stessi che hanno pareggiato per 1-1 contro la Vastese. Dopo una prima fase di studio a rompere gli indugi la formazione di casa. Fraseggio centrale con Emili a premiare l'inserimento di Foglia ma il tiro del centrocampista a botta sicura termina fuori. Il Castelnuovo fa la gara ma il Vasto Girardi un po' a sorpresa a trovare il vantaggio. Tutto si sviluppa sul settore di sinistra con l'imprendibile guida che lascia sul posto il diretto avversario. Poi con un po' di fortuna la sfera arriva sui piedi di Alagia, bravo di prima intenzione a mettere alle spalle di Natale. Quarto centro per l'attaccante in questa stagione e sul risultato di 0-1 termina anche la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa subito episodio da Movioli in area alto molisana. Foglia entra a contatto con Montuori ma per il direttore di gara e simulazione doppio giallo per il centrocampista che lascia il campo anticipatamente tra l'incredulità dei pochi presenti. Il Castelnuovo con la forza della disperazione prova una reazione seppur timida. Sgroppata sull'out di Sanseverino il migliore dei suoi che nel tentativo di mettere dentro per poco non trova la deviazione vincente da parte di un difensore ospite. Ma è un fuoco di paglia, ancora un errore in fase di uscita. Uno dei tanti in stagione Neroverdi mette nelle condizioni Guadalupi di involarsi verso la porta e dal limite dell'aria fulmina Natale con un terra aria che incocce il palo e termina la sua corsa in fondo al sacco. Autentica doccia gelata per i padroni di casa che ora sono sotto di due golle di un uomo. I Neroverdi trascinati da De Gidio provano a rientrare in partita al ventesimo ma la conclusione del numero 7 sfiora di poco il palo alla sinistra di Di Stasio. Il vasto Girardi forse appagato dal doppio vantaggio si adagia. Così il Castelnuovo al quarantesimo rientra in partita e il solito De Gidio a tentare questa volta dalla distanza siderare la conclusione trovando l'infortunio del portiere che non calcola il rimbalzo e si fa scavalcare dalla sfera. Il finale è un monologo nero-verde ma nei tre minuti di recupero la squadra di Di Fabio non riesce ad avere lo spunto decisivo per pareggiare la sfida. Ora la classifica si fa sempre più preoccupante per i terramani mentre il vasto Girardi vede sempre più vicina la griglia dei playoff. E' sicuramente un ritorno amaro in campo quello del Castelnuovo. Mister Di Fabio si aspettava qualcosa di diverso anche se come dice sempre l'impegno c'è stato e l'abbiamo visto fino alla fine. Purtroppo pesano questi tre mesi lontani dai 90 minuti. No ma che potessimo avere qualche difficoltà a livello fisico dopo tanti giorni senza giocare questo l'avevamo preventivato ma la squadra ha retto bene per tutta la partita. Il discorso è che ritorniamo sempre a quello che stava accadendo prima. Non è cambiato niente perché la partita è in bilico. L'equilibrio assoluto è primo tempo. Anzi abbiamo avuto prima noi delle occasioni per andare in vantaggio. Poi dopo secondo tempo nel maggior momento di pressione nostro un episodio che io dalla panchina ho sentito il rumore delle scarpe che si sono incrociate e addirittura il rigore non ce lo dà e ci dà l'espulsione del nostro giocatore. È normale che poi rimani in dieci. Nonostante ci siamo rimasti abbiamo cercato di giocarla fino alla fine. Abbiamo commesso un errore sul gol del 2-0. Non abbiamo mollato. Abbiamo fatto anche il 2-1 in dieci. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Lo spirito è quello giusto. Quello che mi interessa in questo momento è che ai ragazzi ho fatto i complimenti. sicuramente oggi avevamo qualche assenza di troppo. Sono arrivati qualche giocatore nuovo che ci verrà da una mano. Però lo spirito è quello giusto. Quindi andiamo avanti su questa strada senza preoccuparci più di tanto della sconfitta di oggi. Ora un aggiornamento che riguarda la pallavolo con un cambio di panchina. L'altino ha esonerato l'allenatore Luca D'Amico, artefice della promozione in A2 femminile. Al suo posto è il tecnico romano, esperto della categoria Paolo Collavini. E così terminiamo questa prima edizione del TG6. I servizi che avete visto sono disponibili sul canale YouTube di TV6 e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera. alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.